Musica Perito ci dicono che siamo capaci di sperare il messaggio di Pasqua del Vescovo Claudio ai fedeli Padovani Bisogna rispettare i lavoratori che hanno diritto di stare in famiglia nei giorni di festa Duro attacco del parroco di Russega di Campo San Piero contro chi fa shopping a Pasqua Controlli intensificati oggi e domani in città e provincia nei luoghi di culto Molti padovani che scelgono di rimanere a casa e optano per la grigliata tra amici Il sindacato di polizia penitenziaria ha avviato una raccolta firme per la legittima difesa In astrimento delle pene per chi delinque e tutela per i cittadini che si difendono Padova celebra i 2000 anni dalla morte di Dito Livio con eventi per ricordare il grande scrittore Amico dell'imperatore Augusto, viaggio virtuale nella Padova romana Buonasera e buona Pasqua da parte mia di tutta la redazione di TG Padova Cominciamo questa edizione del nostro telegiornale con il messaggio di auguri Che il Vescovo Claudio ha rivolto a tutti i fedeli padovani Vorrei porgere un augurio di buona Pasqua a tutti A tutte le famiglie, a tutte le persone che stanno guardando o ascoltando Soprattutto perché stiamo attraversando il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Risurrezione Ma soprattutto a partire da questo percorso che indica anche la vita di ogni uomo, di ogni persona, di ogni famiglia Vorrei evidenziare come il nostro essere feriti E spesso nelle nostre famiglie questo succede anche nella nostra città, nella nostra diocesi Le nostre ferite sono luogo importante da saper vivere, da saper cogliere Innanzitutto quando siamo feriti ci accorgiamo di aver bisogno e di essere ancora capaci anche di pregare Siamo capaci di preghiere, di rivolgerci a Dio Quando siamo feriti cogliamo l'importanza della solidarietà degli altri Di avere degli amici che ci stanno accanto Ci accorgiamo di aver bisogno di fraternità Ed è proprio nelle nostre ferite che spesso ci fanno soffrire molto Che scopriamo anche ciò che è necessario, ciò che è essenziale per la nostra vita E quello che è in più, ci accorgiamo, che proprio manifesta la sua superficialità È proprio attraverso queste ferite come quando la terra viene solcata e riceve di più l'acqua Che anche noi siamo in grado di ricevere ciò che è più importante ed è più bello per la nostra vita In particolare mi sembra importante scoprire che le nostre ferite ci aprono alla speranza Spesso ci troviamo ad essere tristi, ad essere cupi E le nostre ferite ci dicono che siamo capaci invece di sperare Di guardare oltre al punto al quale siamo arrivati Sempre in queste condizioni noi ci riconosciamo capaci di fiducia Di cercare risorse che pensavamo di non avere dentro di noi E di non restare quindi schiacciati dalle ferite Le ferite aprono orizzonti nuovi E in questo senso vorrei augurare a tutti buona Pasqua C'è la capacità di guardare alle nostre ferite come condizioni Dalle quali partire per riprendere speranza Partire, passare dal venerdì santo alla domenica di risurrezione Buona Pasqua E con la Pasqua torna anche la questione delle aperture dei negozi nei giorni di festa Sentiamo le parole del parroco di Rustega di Campo San Piero Che invita i cristiani a non fare shopping proprio in questi giorni Bisogna rispettare la Pasqua degli altri Le parole sono di Don Marco Scattolon Parroco di Rustega di Campo San Piero Che in questi giorni torna sull'annosa questione delle aperture dei negozi durante le festività Ci sono dei peccati nuovi Chi spreca il pane Chi fa lavorare i dipendenti di festa Ci sono chi inquina Ho fatto anche una cartolina Se vogliamo anche sull'inquinamento Perché dobbiamo educarci anche a essere attuali Essere capaci di leggere i fenomeni di oggi E di dire questo non va, questo non è giusto Le parole sono rivolte ai fedeli Fare shopping nel giorno di Pasqua è un peccato da confessare Dice il sacerdote che invita i cristiani Al rispetto dei commessi e dei tanti lavoratori Che nel giorno di festa non possono stare con la famiglia Io capisco che qualche volta, qualche domenica In prossimità ormai delle grandi feste Almeno una volta tanto Ma si può tenere aperto il pomeriggio Si può tenere aperto oppure il mattino Non tutto l'orario In maniera tale che il bambino Durante la settimana lui va a scuola Alla domenica il genitore non c'è Non va bene Dovrebbe esserci anche una convergenza di interessi Tra chi lavora E chi ha diritto di avere un genitore in casa La riflessione di Don Marco Che non è nuova, messaggi forti Un invito a far convergere le esigenze dei dipendenti Con quelle dei datori di lavoro Nel rispetto della persona e dei suoi interessi E ho centinaia, centinaia, centinaia di persone che vengono a Messa Vuol dire che questi lavoratori hanno anche un interesse religioso Ed è bene riconoscerlo perché no Ed è stata una Pasqua blindata a Padova In occasione appunto delle festività pasquali Come è accaduto in altre circostanze speciali Come Ferragosto e Capodanno La città e anche la provincia hanno subito un rafforzamento Dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine In funzione antiterrorismo Lo richiede lo stato di allerta generato dagli attentati Anche recenti che continuano a scuotere l'Europa E lo richiede il fatto che la città del Santo nel nord-est Sia tra quelle considerate a rischio Proprio come Venezia e Verona Per questo è stata disposta un'ordinanza di servizi rafforzati Che prevede la vigilanza fissa In tutte le celebrazioni religiose, cristiane ed ebraiche Sorvegliati speciali saranno il Santo, il Duomo I luoghi di culto Ma a Pasquetta anche tutti i luoghi di attrazione turistica Saranno impegnati uomini della polizia E dei carabinieri che si muoveranno in divisa e in borghese E domani, lunedì di Pasquetta Che cosa faranno i padovani? L'abbiamo chiesto, sentite Se è vero il detto popolare sole sulle palme Pioggia sulle uova Beh, si spera almeno che lunedì di Pasquetta ci sia tempo variabile Si sa, la giornata è tradizionalmente evocata Le gite fuori porta, i picnic, le scampagnate E i padovani cos'hanno in programma per domani? Ma non lo so, sinceramente Veramente, credo farò Pasquetta con la mia madrina A casa perché ho dei nipoti da accudire Quindi farà il nonno Nel senso che ce n'è uno che non sta bene Per cui... Quindi insomma si passa a casa con la famiglia? Eh sì, purtroppo perché avevo deciso di andare via Invece no Una grigliata Quindi con gli amici? Una grigliata con gli amici, sì A casa? A casa, sì Da casa o gita? Gita Gita sicuramente fuori zona, sui colli, non lo so Da qualche parte, ma sicuramente una gita In famiglia? In famiglia Casa Con la famiglia Tempo brutto, quindi casa Ah, andiamo vado in ferie, quindi non ci sono a padova In ogni caso, parola d'ordine, relax Tutto pronto invece per le primarie del 30 aprile per il Partito Democratico Per eleggere il nuovo segretario nazionale Ma in Veneto si voterà anche per nominare la nuova guida della regione per il PD A queste primarie, come dice il nome stesso Partecipano naturalmente tutti gli iscritti del PD Ma possono partecipare tutti i cittadini che si ritengono simpatizzanti, elettori, interessati Comunque alle vicende del PD Noi faremo in Veneto anche il congresso regionale in contemporanea Quindi c'è sia l'elezione del nuovo segretario nazionale il giorno 30 di aprile Sia l'elezione del nuovo segretario regionale per i quali ci sono due candidati Il sindaco di 90 Alessandro Bisato per l'area Renzi E il capogruppo del Consiglio Comunale di Treviso Giovanni Tonella per l'area Orlando E' molto importante anche che sia finalmente ricostruito anche il gruppo dirigente del PD regionale Perché il Veneto in questi mesi vive tante problematiche Penso alle banche, penso alla Pedemontana Penso alle vicende anche legate al difficile rapporto con lo Stato Il tema dell'autonomia Che c'è bisogno di un Partito Democratico che sappia fino in fondo affrontare questi temi Anche a Padova continua la raccolta firme del sindacato di polizia penitenziaria Per una proposta di legge sulla legittima difesa Una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa Per tutelare il cittadino che si trova a reagire quando i ladri entrano in casa Il sindacato di polizia penitenziaria SPP Ha iniziato un tour per l'Italia per continuare la raccolta firme Anche a Padova l'adesione è stata alta Noi abbiamo deciso di andare in giro per tutta l'Italia con questo disegno di legge di iniziativa popolare Tre punti essenziali Il raddoppio delle pene Il delinquente che ti entro a casa saprà da prima che se il cittadino onesto ti spacca la testa Non sarai risarcibile E questo è una cosa essenziale E soprattutto non vi sarà l'eccesso di legittima difesa Che porta le persone oneste a doversi difendere anche se hanno ragione Con dei costi economici e con dei sacrifici psicologici enormi Già 2 milioni di firme sono state depositate Ma l'obiettivo ambizioso è quello di raggiungere 5 milioni In un mese la quota è salita di 90 mila La situazione non è difficile solo per i cittadini Dicono i poliziotti della penitenziaria Anche all'interno delle carceri serve una maggiore regolamentazione La situazione delle carceri vedete è una situazione assolutamente pesante C'è una grande parte della fetta della popazione detenuta È extracomunitaria E c'è un trend che dice che è in crescita C'è un aumento degli eventi critici in tutte le carceri italiane C'è un aumento significativo al di sopra della media nazionale nelle carceri vedete E questo evidentemente è molto preoccupante Ed ora parliamo di storia della nostra storia Perché Padova celebra i 2000 anni dalla morte di Tito Livio Ricorda lo scrittore caro all'imperatore Augusto facendolo riscoprire la città Padova pronta a riscoprire la figura di Tito Livio fuori dalle aule dell'università In mezzo alla gente in occasione di un anniversario importante Padova rende omaggio al suo illustre cittadino Tito Livio nacque nel 59 a.C. e morì nel 17 d.C. Amico dell'imperatore Augusto e cittadino onorario della capitale Restò sempre legato e fedele alla sua terra d'origine In occasione delle celebrazioni per il billenario della morte L'università propone un calendario di eventi a lui dedicato Tito Livio parla di Antenore, Enea e due grandi fondatori Uno fonda Padova, l'altro fonda Roma Tito Livio è citato come patavino per indicare il suo legame con la città Tutto questo ci riporta la nostra lunga storia E se mi permetti ci porta anche a pensare che la cultura, gli studi classici L'analisi del nostro passato è uno strumento di ricchezza culturale e sociale di un territorio Spettacoli, conferenze, attività per le scuole Ma anche un viaggio alla riscoperta della Padova romana Ricostruita virtualmente e visibile attraverso occhiali speciali Per calarsi nella vita di 2000 anni fa e vedere l'arena Il porto fluviale sui ponti romani e il teatro di Prato della Valle Penso l'esperienza, quella che potrà essere l'esperienza più entusiasmante per i padovani E la scopertura del teatro Il teatro che si trova sotto il Prato della Valle E quindi verrà appositamente svuotata la canaletta Per far riemergere questi resti del teatro Un teatro importante perché è un grande teatro Che purtroppo le pietre poi sono state riempiegate per la ricostruzione degli edifici E con l'informazione padovana ci fermiamo qui Io vi auguro ancora una buona parco Da parte mia di tutta la redazione Buona serata, arrivederci Le previsioni per domani Variabilità con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi Più significativi dal pomeriggio sulle zone montane e pedemontane Precipitazioni Probabilità fino al primo pomeriggio bassa In aumento poi fino a medio alta sulle zone pedemontane e prealpine Si tratterà di fenomeni da locali a sparsi anche a carattere di rovescio o temporale Temperature Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale Le massime una diminuzione locale anche abbastanza sensibile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti